Buonasera, tra qualche istante per la regia di Ron Howard andremo del film drammatico Apollo 13 con Tom Hanks, Kevin Bacon, Heather Harris, Gary Snyder e Billy Paxton. A più tardi. Questo programma è presentato da Billo, il porta spugna e da Dizionari Zanichelli. Zanichelli, i libri sempre aperti. Grazie. 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 Grazie.